Covid, i dati di oggi in Abruzzo, si registrano 608 nuovi casi. Il sindaco di Pangrazio interviene sulla campagna vaccini, chiede alla regione di accelerare i tempi. L'ordinazione diaconale di Angelo Di Bucchiani e Collo annuncia la chiesa diocesana. Pubblicato decreto degli interventi sulle scuole, 855 milioni stanziati. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano, come sempre, gli ultimi aggiornamenti sul Covid. Rispetto ad ieri, si registrano quindi 608 nuovi casi da coronavirus in Abruzzo su 11.756 test eseguiti. Sono complessivamente 58.931 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Positivi con età inferiore a 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell'Aquila, 53 in quella di Pescara, 30 in provincia di Chieti, 12 in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo altri 37 nuovi casi e sale quindi a 1.872. Del totale odierno, 12 casi sono riferiti ad eccessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati soltanto oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44.161 dimessi, perché guariti, 906 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.898, 335 in meno. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 800.288 tamponi molecolari, 6.112 in più rispetto a ieri e 304.929 test antigenici, 5.644 in più. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 5,1%. 661 pazienti, 8 in meno sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 91, 4 in più ma con 9 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.146, 331 in più rispetto a ieri. Sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E si alza la sticella dei contagi da Covid-19 nella Marsica, data l'aggressività delle nuove varianti. Le scuole continuano ad essere chiuse, ma quanto pare comportamenti sbagliati e non rispettosi delle regole, portano comunque alla diffusione del virus. Come riporta Marsica Live, la città più colpita è Avezzano, dove i contagi nelle ultime ore sono stati 19. Seguetta di Acozzo con 9, San Benedetto de Marsi con 7, Celano e Luco de Marsi, entrambe con tre nuovi contagi, Lecce e Nemarsi con 2, Santa Maria 4, Balsorano 1, Capistrello 2, Cevida Dantino 1, così come a Gioia de Marsi e Madiano de Marsi e San Vincenzo Balleroveto 2. In totale la Marsica nelle ultime 24 ore conta 55 nuovi contagi. Il primo cittadino di Avezzano chiede alla regione, al presidente Marco Marsiglio, di accelerare sui vaccini. Governatore da Beruzzo, in una lettera inviata al sottoscritto, dichiara il sindaco di Pangrazio, ha sottolineato l'importanza dell'installazione dei moduli prefabbricati, richiesta dal sottoscritto, in molteplici circostanze alla dirigenza dell'ASL 1. Il presidente altresì voluto evidenziare un principio sacrosanto, e cioè che le due opzioni, lavori per la terapia intensiva e subintensiva da un lato, e moduli prefabbricati dall'altro, non erano alternative, ma si potevano e forse dovevano perseguire contemporaneamente. La mia assistenza sull'argomento, tradotto in molteplici lettere e richieste, prosegue il sindaco Giovanni Di Pangrazio, non si basava solo su un principio di prudenza. Si basava sulla conoscenza della macchina amministrativa e dei possibili ritardi nelle opere. Tali ritardi sono da mettere in conto, devono allertare verso intelligenti soluzioni alternative che i sindaci marsicani non solo hanno richiesto, ma hanno proposto con puntualità di terminazione. E molti ricorderanno la sola ersia con cui abbiamo predisposto i draft-true, nell'attesa di una macchina per processare i tamponi. Il parlamentino da me convocato in tre diverse adunanze, con la partecipazione dei 37 sindaci e degli operatori della sanità. Le sollecitazioni può convocare il comitato ristretto dei sindaci della ASLA per avere risposte definitive sul completamento dei lavori nelle terapie intensive e sull'interincerto del nuovo ospedale. Dinanzi alle giuste sollecitazioni, in alcuni casi da parte di qualche collaboratore della direzione ASLA, ci è stata fornita una didascaleca e saccente lezione sui lavori previsti, come se si fosse di fronte alle lamentare di qualche ignoro passante e non ad allarmi di chi ha per dovere il ruolo di tutelare 140.000 concittadini. I moduli temporanei erano liberi e a disposizione, eppure non sono arrivati nella marsica. Ora che tutti sembrano riconoscere la fondatezza di quelle ragioni ed augurandomi che il manager inviti i suoi collaboratori a non prendere per facili provocazioni le richieste di tempestiche certe inoltrate dagli amministratori, mi auguro, continua il sindaco di Avezzano, che l'appello ad avere il macchinario Panther dopo quello Menarini sia preso nella dovuta considerazione. Menarini è importantissimo perché è capace di individuare le varianti al SARS-CoV, ma auspico che i tempi di consegna del Panther siano quelli che mi sono stati anticipati, e cioè dieci giorni. Ritengo molto positiva, continua Di Pangrazio, l'attivazione poi di centri vaccinali in altre città della Marsica, come Tadiacozzo, Pescina, Carsoli. Qui ad Avezzano siamo pronti per fornire subito spazi e luoghi idonei. Possiamo mettere a disposizione una sede con dieci linee che consentirebbero di somministrare fino a mille vaccini al giorno. Siamo pronti a tal fine a fornire il personale amministrativo. In tre mesi così si potrebbero vaccinare 90.000 persone. Mi sembrano come quelle precedenti, sollecitazioni ragionevoli e necessarie. Credo tutti i concludi di Pangrazio si siano ormai resi conto della coerenza dell'amministrazione e della necessità di lavorare insieme. Noi continueremo a fare la nostra parte. Il vicepresidente Vicario Roberto Sant'Angelo ha inoltrato invece una richiesta all'assessore della salute Nicoletta Verria finché colga la richiesta di inserimento tra le categorie da vaccinare in maniera prioritaria le commesse, i commessi e gli addetti ai supermercati. La richiesta nasce, dichiara Sant'Angelo, dalla consapevolezza che i lavoratori in questione sono una categoria poco rappresentata a livello mediatico ed istituzionale ma che nel contesto della pandemia da Covid-19 sono stati e sono costantemente in maniera silenziosa e con notevole spirito di abnegazione a servizio dei cittadini per garantire la continuità dei servizi essenziali che non possono essere interrotti. D'altro canto è proprio la tipologia di lavoro che svolgono, che li espone quotidianamente a contatti, per esempio Sant'Angelo, che seppur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie fa di loro una categoria potenzialmente ad elevato rischio. Ho ritenuto quindi doveroso rappresentare nelle sedi istituzionali le istanze che quotidianamente mi arrivano a dare voce a richieste legittime, vaccinare questa categoria di lavoratori e ricomprenderli in categorie preferenziali facendo salva la precedenza del personale sanitario e le forze dell'ordine oltre a ottantenni, persone fragili, gli operatori di servizi essenziali e di quant'altro indicati dal Ministro della Salute. non fa altro che rispecchiare la strategia d'attacco e di difesa del virus, limitandone poi la possibilità di diffusione del contagio. La Chiesa diocesana annuncia con gioia l'ordinazione diaconale di Angelo di Bucchiani col 13 marzo alle ore 17.30 nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Tadiacozzo. Angelo sarà diacono per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo de Marsi Pietro Santoro. Una vocazione adulta ma da sempre desiderata e custodita nel cuore quella di Angelo originario di Lanciano classe 1961 terzo di quattro figli. Fondamentale per il suo cammino, l'esperienza vissuta con i fratti minori conventuali che hanno sostenuto e incoraggiato il suo discernimento. Ex operaio edile, metalmeccanico nel 2018, è stato colto nella diocesi di Avezzano per diverse esperienze pastorali nella forania di Tadiacozzo. ed una nuova piattaforma informatica della Regione gestirà tutti gli interventi legati all'edilizia scolastica. Lo strumento è stato presentato nel corso di una due giorni formativa a tutti gli enti locali che sono proprietari degli edifici scolastici dislocati sul territorio regionale. Al webinar formativo ha partecipato anche l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale che ha voluto verificare personalmente la funzionalità della nuova piattaforma ma soprattutto ha voluto accertarsi dello stato di salute delle scuole abruzzese. Ci aspetta un lavoro impegnativo, ha detto l'assessore, che necessita di una stretta e effettiva collaborazione tra la Regione Abruzzo e tutti gli enti locali e regionali. è un dato oggettivo che molti istituti scolastici presentano diverse criticità e la nuova piattaforma si muove in questa direzione perché mette in trasparenza lo stato di salute di ogni singolo plesso. Voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione per uniformare il sistema in tutte le regioni, la nuova piattaforma sostituisce la precedente e sarà indispensabile per la programmazione 2021-2024 degli interventi sulle scuole. E di fatto la piattaforma Censisce, gli edifici scolastici in Abruzzo, sono 1307 con singole schede dove i proprietari delle strutture, comune e province sono tenuti a caricare tutti i dati fisici e non riferiti al singolo plesso. In questo modo ogni scuola ha la sua carta d'identità dalla quale si evincono lo stato di salute, il grado di vulnerabilità sesmica e l'anno di costruzione, tutti i dati che sono indispensabili per programmare eventuali interventi di messa in sicurezza. Ed è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il tanto atteso decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della provincia dell'Aquila a valieri sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020-2024. In particolare gli interventi oggetto del decreto e i lavori previsti riguardano i seguenti plessi scolastici. Lavori di efficientamento energetico dei lotti 1, 2 e 3 dell'Istituto d'Aosta dell'Aquila, liceo Scienze Sociali Benedetto Croce di Avezzano, lavori di sostituzione infissi lotto 1 e 2, lavori di sostituzione infissi presso l'Istituto Serpieri di Avezzano, liceo artistico poi Mazzara di Sulmona, lavori di sostituzione degli infissi esterni ai fini dell'efficientamento energetico, lavori di efficientamento energetico anche alla palestra dell'Istituto Maiorana di Avezzano, e di fila liceo Vico di Sulmona, lavori di sostituzione degli infissi esterni ai fini dell'efficientamento energetico. soddisfatti i consiglieri delegati all'edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi, Vincenzo Calvisi e Andrea Ramunno, per il raggiungimento dell'obiettivo di modernizzazione e rinnovamento dei plessi scolastici di proprietà della provincia dell'Aquila. Ringrazio per il lavoro svolto, ha dichiarato il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, i consiglieri provinciali e il dirigente all'edilizia scolastica. Inizieranno a breve gli interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale dell'immobile sito e località Remonia nel comune di Roccaraso, di proprietà della provincia dell'Aquila. L'intervento rientra nell'ambito delle procedure del piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari di proprietà della provincia dell'Aquila per il triennio 2018-2020, quando furono individuate alcune case cantoniere non più utilizzate dall'ente per servizi di supporto alla viabilità, che potevano essere disponibili per un impiego diverso e compatibile con un progetto di rivitalizzazione e sviluppo delle aree interne. In particolare la casa cantoniera di Roccaraso fu assegnata nell'agosto 2018 al comando provinciale dell'Aquila e della Guardia di Finanza per ospitare un nucleo di soccorso alpino e una unità cinofila. La Confesercenti del centro Abruzzo interviene con una richiesta di modificare il piano traffico nel comprensorio Pelinio. Ferma restando la posizione secondo la quale la città di Sulmona per il suo valore storico e culturale è una eccellenza per il settore turistico e soprattutto per il cosiddetto turismo lento, la Confesercenti del centro Abruzzo ha tenuto conto che l'accentuata emergenza sanitaria da Covid-19 sta danneggiando in maniera dura e inesorabile soprattutto il settore del commercio e dei pubblici esercizi, ritiene opportuno che l'amministrazione comunale modifichi il piano traffico cittadino al fine di adeguare le attività decreti del Governo. In sostanza, la Confesercenti ha ben presente la necessità di un'elevata tensione alla lotta e alla diffusione del contagio, tenuto conto anche delle linee tecnico-politiche del Governo tese a restringere sempre più il Paese in una zona rossa fortificata con la conferma delle vendite da asporto e a domicilio, con la chiusura anticipata dei pubblici esercizi e con la restrizione della libertà di movimento per i cittadini. Pertanto, l'Associazione di Categoria chiede al Sindaco di Sulmona e alla sua amministrazione di adottare misure e provvedimenti utili ad agevolare gli acquisti nei locali commerciali della città che possono essere valide fino al 30 giugno prossimo, ovvero fino a quando tutti i cittadini abbiano ricevuto almeno la prima dose di vaccino e fino all'abbassamento dell'indice di contagio stimato dagli enti preposti. Interessante la proposta dell'assessore regionale alle aree interne, Guido Liris, di quella di costituire un tavolo di lavoro con soccorso alpino, club alpino italiano, guide alpine, esercito, vigili del fuoco, guardia di finanza, protezione civile regionale e tutti gli esperti del settore per valutare insieme la possibilità di rendere obbligatorio in Abruzzo, così come lo in altre regioni italiane di montagna, l'apparecchio Artba, un riccio trasmettente in grado di emettere e ricevere onde radio per permettere a chi è rimasto travolto da valanghe di segnalare la propria posizione ed ai soccorritori di trovarlo nel minor tempo possibile. Il tavolo di lavoro, dice Liris, dovrà avere come obiettivo quello di formulare una legge ad hoc per la sicurezza in montagna che abbia come priorità, senza disincentivare il crescente desiderio dell'alta quota, quella di stimolare la cultura della sicurezza tramite un processo di formazione e informazione, addirittura pensando a corsi all'interno delle scuole. L'Abruzzo è una regione appenninica con montagne impegnative, quindi è compito del legislatore insieme agli esperti del settore essere al passo con i tempi per garantire soccorso, formazione e sicurezza. La recente esperienza, ricorda Liris, delle ricerche sul Monte Velino deve essere da stimolo, di riflessione, soprattutto per mantenere unito quel tavolo di lavoro che è trovato proprio in Abruzzo un unico nazionale di operatività e sinergia fra i vari corpi di soccorso. La Regione Abruzzo parteciperà fino al 12 del mese corrente alla manifestazione fieristica di Berlino, l'evento dell'industria turistica internazionale che si tiene ogni anno presso il centro fieristico di Berlino. Si tratta di una fiera business to business, aperta in parte anche al pubblico ed offre l'opportunità di contatti e business tra operatori del settore. L'edizione di quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, si terrà per la prima volta in forma virtuale e includerà tavole rotonde, conferenze in streaming live, eventi e opportunità di networking digitale e aree espositive virtuali. l'Abruzzo è presente in qualità di coespositore di Enit. Si presenta all'evento insieme alle PMC Abruzzo Innovatori, soggetto coordinatore delle DMC regionali e a due importanti consorzi di operatori turistici abruzzesi, come sottolinea proprio l'assessore al turismo, Daniele Damario, mettendo a disposizione degli operatori turistici, in questa vetrina fioristica mondiale, online per tutta la durata dell'evento. In questa cornice, dice, continuiamo a promuovere fortemente il cicloturismo, che è divenuta una parte sostanziale dell'offerta turistica regionale, che con la rete Abruzzo Bike Friendly, ha dimostrato come sia possibile creare un modello di accodianza alternativo, moderno e vincente. E partirà di inizi di aprile la formazione specifica per la figura di guida ambientale escursionistica, promossa dalla Confesercenti Abruzzo, in collaborazione con l'associazione LAGAP, Libera Associazione delle Guide Ambientali, Escursionistiche e Professioniste, regolarmente scritta di elenchi del mese. Il programma formativo coinvolgerà un team di docenti altamente qualificati, avrà una durata di 284 ore, si incentrerà in particolare sulle seguenti macro-aree, legislazione, fisco, cartografie d'orientamento, marketing territoriale, oltre alle materie specifiche per la conduzione dei gruppi, quali zoologia, geologia e meteorologia. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui, noi come sempre prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.